Eccoci, bentrovati, benvenuti a tutti. Ok, adesso aspettiamo alcuni minuti prima di iniziare perché vedo che si stanno ancora collegando alcuni dei docenti che ci erano iscritti, intanto vi do il benvenuto a questa serie di webinar che iniziamo oggi, in particolare per voi docenti sono previsti due appuntamenti online, due webinar, questo è il primo, il secondo sarà il 24 novembre e come tema affronteremo appunto quello della PAC, questi webinar sono realizzati all'interno di questo progetto che è parte CIPAC, che è realizzato da ImageLine, finanziato dalla Commissione Europea, proprio per divulgare quella che è la politica agricola comunitaria. Alcune note tecniche prima di avviarci, come vedete nel vostro pannello di controllo c'è una sezione domande in cui potete nel corso del webinar scrivere se ci sono richieste di approfondimento, di chiarimenti su alcuni punti. Io probabilmente non riuscirò a rispondere nell'immediato alla risposta, ma sicuramente alla fine possiamo fare una piccola sessione diciamo di domande e risposte per vedere se ci sono alcune cose che si possono aggiungere a quello che sono state dette. Vedo che c'è già qualcuno che ha una domanda, ok c'è un problema di ricezione di audio, chiedo se ora confermo se si sente, se tutti quanti sentite, ovviamente se qualcuno ha dei problemi lo scriva, se sentite a posto così. Quindi adesso attendiamo ancora alcuni minuti, nel frattempo vi ricordo che partecipac c'è il sito partecipac.eu in cui potrete poi dopo andare anche a ritrovare sia le registrazioni di questi webinar che le slide che io vi presenterò. Ci saranno anche altri materiali che verranno caricati in questo sito che sarà un po' il contenitore di tutte le attività che facciamo nell'ambito di questo progetto da qui ai prossimi 12 mesi, podcast, video, interviste, articoli per approfondire le tematiche appunto della PAC che come vedremo un pochino oggi ma anche soprattutto la prossima volta riguarda in particolar modo l'agricoltura ma non solo perché ciò che viene definito dalla PAC ha poi delle ricadute su tutto quello che è la società diciamo e l'Europa in generale. Poi ci saranno i webinar per gli studenti a partire da dicembre fino ad aprile e anche a quelli potrete iscrivervi, potrete iscrivere i vostri studenti per partecipare direttamente, le date le trovate sia sul sito partecipac che anche sul sito agroinnovationedu. Questo webinar infatti è realizzato all'interno di partecipac ma diciamo abbiamo sposato, abbiamo messo insieme due progetti, l'altro progetto appunto che portiamo avanti già da alcuni anni, molti di voi già ci conoscono perché hanno partecipato a tutte le attività di formazione che abbiamo fatto anche gli scorsi anni che è agroinnovationedu che è dedicato alle scuole di indirizzo agrario. Ripeto il sito di riferimento ma poi dopo lo troverete anche in fondo alle slide è partecipac.eu e qui troverete appunto tutti i materiali, tutte le informazioni per quanto riguarda le attività che svolgeremo. Come dicevo, agroinnovationedu invece è il progetto dedicato alle scuole di indirizzo agrario all'interno del quale appunto svolgiamo attività di formazione, quindi abbiamo unificato questi due progetti in questa serie di webinar che andremo a svolgere. Oggi parleremo in particolar modo di sostenibilità ambientale e Green Deal, ma direi che appunto ora possiamo avviarci già a iniziare, vedo che molti già sono collegati, poi eventualmente qualcuno ci raggiungerà più avanti. Partirei da presentarmi, per chi non mi conosce, io sono Gabriele Mongardi, all'interno del progetto Partecipac sono il Project Education Manager, cioè mi occupo di fatto della formazione, quindi troverete me anche nel prossimo webinar e in tutti i webinar per gli studenti e appunto sono anche il coordinatore del progetto Agroinnovation Edu, quindi già con chi appunto di voi, dei professori che già ne fanno parte, hanno partecipato, abbiamo già avuto modo di conoscerci nei webinar che abbiamo svolto negli scorsi anni e nell'attivazione anche dei software che forniamo gratuitamente alle scuole. Oggi appunto come vi dicevo siamo qui proprio per in particolare modo per questo progetto Partecipac e anche come vi dicevo appunto abbiamo unito anche il progetto Agroinnovation Edu in questo percorso. Il tema principale di oggi sarà la sostenibilità ambientale e il Green Deal, quindi cercheremo un po' di capire quali sono le scelte che l'Unione Europea ha fatto e sta facendo in questo periodo per andare verso un obiettivo di maggiore sostenibilità delle proprie produzioni e cercheremo anche di dar, cercherò di darvi anche magari qualche spunto, qualche appunto ispirazione che possa esservi utile anche nell'affrontare queste tematiche in classe con i vostri alunni. Partiamo dalla sostenibilità, dal concetto di sostenibilità. Che cos'è la sostenibilità? Come la definiamo? Come si fa sempre si parte da la definizione. Che cosa si intende per sostenibilità? Sono andato per un esercizio, diciamo, andate a vedere sulla Treccani come viene definita la sostenibilità e viene definita in questo modo. nelle scienze ambientali ed economiche è la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Quindi diciamo che ci sono due concetti fondamentali che andiamo a identificare. Innanzitutto la sostenibilità parte comunque da un'idea di sviluppo e di soddisfacimento dei bisogni di chi è in questo momento appunto quindi della generazione presente. Ma questo appunto la sostenibilità presuppone che questo sviluppo abbia già uno sguardo in avanti, un'ottica e un'attenzione anche a quelle che sono le generazioni future. Quindi cercando di mantenere integra la possibilità che anche in futuro si possano soddisfare i bisogni di sviluppo delle generazioni che verranno e queste non debbano partire da una situazione di svantaggio che è stata appunto generata dalle generazioni che l'hanno preceduta. Questa è una definizione che credo che ormai tutti voi abbiate già sentito, abbiate sentito in diversi ambiti, in diversi luoghi. Che cosa si, diciamo, generalmente come viene ripartita la sostenibilità? La sostenibilità di solito viene suddivisa in tre grandi categorie. La sostenibilità economica, cioè quanto una qualsiasi processo, un qualsiasi appunto sviluppo economico, debba stare in piedi, ecco, a livello economico, quindi ci sia un beneficio in termini economici, quindi non solamente di materiali ma proprio di beni e servizi che se ne ricavano e questo deve stare sostanzialmente in piedi, non ci deve essere uno sbilanciamento, quindi non ci deve essere un qualcuno che paga in termini economici il costo di questo sviluppo. Ma questo non è l'unico aspetto perché, come sappiamo, l'economia non riesce a coprire l'intero, diciamo, di quello che è, di quelli che sono i bisogni dell'uomo e soprattutto di quello che è il contesto ambientale. Infatti molto spesso a beneficio di uno sviluppo economico si sono andati a pagare, o comunque stiamo pagando, dei costi ambientali che quindi non vengono, ovviamente non si possono inserire dentro un conto economico perché appunto sono dei concetti che sfuggono a queste logiche. I costi ambientali sono quelli che, di cui tutti noi sentiamo parlare in questo periodo, in termini di cambiamenti climatici, emissioni di gas serra, inquinamento in generale, questi sono tutti costi ambientali. L'altra sfera che è da considerare è quella sociale, cioè che ogni persona, ogni individuo, come abbiamo visto prima nella definizione di sviluppo di questa generazione, sia in grado di soddisfare i propri bisogni e quindi non ci sia uno sbilanciamento in termini sociali di chi ne beneficia e di chi invece paga il costo. Questo in termini di inclusione, in termini di parità di genere, in termini di uguale accesso alle possibilità che vengono messe a disposizione da quella che è la società e lo sviluppo. Generalmente questi sono i tre grandi aspetti, i tre grandi ambiti della sostenibilità. Ci sono definizioni che ne identificano altri, noi prendiamo questa che è abbastanza classica diciamo come divisione e proviamo a immaginarci diciamo la sostenibilità quindi come un tavolo che ha tre gambe. Ognuna di queste gambe è uno di quegli aspetti che abbiamo visto in precedenza. Ora il concetto importante da tenere a mente è che non solo questi tre aspetti devono esserci, devono essere tenuti in considerazione, ma appunto per fare stare in piedi questo tavolino devono avere anche la stessa lunghezza, altrimenti se uno sviluppo è sbilanciato su uno di questi aspetti ciò che accade è che il tavolo si inclina e la palla che ci abbiamo appoggiato sopra rotola giù. Ora quella palla che cos'è non è la la terra purtroppo, la palla che rotola giù siamo noi, è la nostra società, è il modo in cui noi stiamo vivendo in questo momento, il nostro modo di vivere. Perché se il nostro modo di vivere si basa su uno sviluppo sbilanciato, prima o poi questo modo di vivere non sarà più sostenibile, in un modo in un altro ci sarà un punto in cui uno di questi aspetti che abbiamo analizzato precedentemente farà in modo che non sia più, non si legga più in piedi questo modo, ecco, e questo può essere sia per questioni economiche, sia per questioni sociali o come sta avvenendo in questo, diciamo a livello globale in questo momento, è quello che è, diciamo, la cosa più urgente, quello di cui ci, su cui è puntata l'attenzione di tutti, è il concetto, il tema della sostenibilità ambientale. Questo è importante ricordarcelo, appunto, che quella palla che rotola giù dal tavolino non è la terra, ma è, ma siamo noi, la nostra società, perché la terra, molto onestamente, un po' non si, chiaramente, viene alterato l'ecosistema, ma in generale, se consideriamo il pianeta Terra dalla sua origine, da quando si è sviluppato, sappiamo benissimo che a livello geologico, di ere geologiche, ha attraversato periodi in cui il clima era completamente diverso, l'atmosfera era completamente diversa, siamo passati attraverso periodi in cui ci sono state già in passato estinzioni di massa, in cui si sono estinte fino al 96% delle specie marine, per esempio, o il 50% delle famiglie animali, queste sono, per esempio, l'estinzione di massa, per chi volesse andare a approfondire, l'estinzione di massa del Permiano Triassico, che è avvenuta circa 250 milioni di anni fa, prima di quella che si è avvenuta, che è avvenuta un po' di estinzioni, comunque di eventi catastrofici, ce ne sono state, per esempio, 5 a livello geologico fino a ora, si parla attualmente di una sesta estinzione di massa, che è quella che un po' stiamo causando noi, alterando il clima, alterando l'equilibrio dell'ecosistema, e appunto la domanda che ci dobbiamo fare è, alla fine di questa estinzione, noi, essere umano, Homo sapiens, come specie, saremo ancora sulla Terra o saremo una delle specie che si è estinta? Molti scienziati sono concordi nel dire che probabilmente saremo tra quelli che si estinguono, perché non abbiamo la stessa capacità, che hanno avuto in passato le specie che sono sopravvissute, di adattarsi ai cambiamenti, soprattutto a dei cambiamenti così rapidi. Questo è un concetto che ci sentiamo dire molto spesso, è vero che i cambiamenti ci sono stati, anche i cambiamenti di clima, di temperatura nel corso dell'eree, anche non guardando le ere geologiche, a livello proprio anche storico, in termini di decine, centinaia, migliaia di anni, ma mai così rapidamente, e questo è strettamente correlato alla quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera. Ora quindi, dal momento che tutti quanti, come appunto consideriamo questo con un'ottica di specie, tutti quanti come Homo sapiens, come uomini, siamo sulla stessa Terra e quindi sostanzialmente viviamo sullo stesso pianeta e i cambiamenti sono a livello globale, è necessario mettersi insieme per riuscire a trovare una soluzione di sistema, una soluzione che sia globale, che ci possa permettere di continuare a vivere, a prosperare come società, come specie, ma tenendo maggiormente in considerazione quella gamba, diciamo, del tavolino che è la sostenibilità ambientale, che finora è stata un po' ignorata. Cosa è stato fatto quindi? Partiamo da una decisione, insomma un accordo che ha già alcuni anni, nel settembre più o meno del 2015, venne stabilito da oltre 150 leader a livello nazionale, vennero stabiliti alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile. Come vedete, non li andremo a analizzare nel dettaglio, però nel caso vogliate andare a esplorarli, ci sono molti materiali anche didattici molto interessanti, sia sul sito delle Nazioni Unite, ma comunque vi basta scrivere obiettivi di sviluppo sostenibile su internet, troverete molti materiali, in cui appunto è stata stabilita questa agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, appunto a suo tempo venne stabilito questo obiettivo temporale 2030, per cercare di iniziare a cambiare la modalità di sviluppo, diciamo, delle nostre attività in termini di maggiore sostenibilità. Come vedrete, come vedete anche da quelli che sono gli obiettivi di sviluppo, c'è sia un'attenzione alla sostenibilità ambientale, a partire appunto dai consumi responsabili, lotta al cambiamento climatico, alla vita sull'acqua, sott'acqua, sulla terra, eccetera, eccetera, ma ci sono anche alcuni aspetti che fanno riferimento a quegli altri, scusate, alcuni obiettivi che fanno riferimento a quegli altri aspetti che avevamo visto, quindi sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, questi sono obiettivi che possono essere ricondotti a quegli aspetti della sostenibilità sociale ed economica che abbiamo visto in precedenza. Quindi appunto si è presa consapevolezza anche a livello delle leadership mondiale che è necessario uno sguardo di insieme per poter continuare a vivere, diciamo, anche un po' nel modo in cui ci siamo abituati o comunque sempre meglio. Un altro modo, diciamo, di intendere questi obiettivi e di rappresentarli è quello delle 5P, cioè quali sono le aree su cui puntare in maniera prioritaria, sono innanzitutto il pianeta, le persone, la prosperità, le alleanze, quindi la partnership e la pace. Quindi queste sono le 5P che sono state individuate come aree, macro aree di sviluppo, dalle quali poi dopo sono stati declinati, come abbiamo visto prima, 17 obiettivi, a loro volta suddivisi in altri 169 sotto obiettivi, quindi nel caso vogliate andare a esplorare in maniera un pochino più approfondita queste tematiche, vi consiglio anche una breve navigata, una breve ricerca su internet, troverete sicuramente molti materiali e molti spunti interessanti. Ora ci andiamo un attimo di più nello specifico dell'agricoltura. Qual è il ruolo dell'agricoltura in questo contesto? Allora, sicuramente quello che dobbiamo considerare è che l'agricoltura è l'attività economica che è alla base, infatti è il settore primario, non a caso, perché è alla base più o meno di tutto quanto. Facciamo un semplice ragionamento, ogni volta che ci mettiamo a tavola noi mangiamo qualcosa che è stato prodotto da un agricoltore o da un allevatore, da qualche parte. Quindi l'agricoltura è quel settore economico che di fatto si occupa di dare da mangiare, dare da mangiare a tutta la popolazione mondiale. Al momento siamo 7 miliardi abbondanti, quasi 8, si stima che si arriverà a 9, forse 10 miliardi nel corso dei prossimi anni, e di conseguenza l'agricoltura dovrà probabilmente produrre di più, per quanto al momento in teoria la produzione di cibo mondiale potrebbe essere già sufficiente per sfamare tutti gli uomini, tutti gli uomini, le donne, tutte le persone sul pianeta, ma ovviamente c'è uno squilibrio di distribuzione di questi beni e di queste produzioni, così come appunto nei paesi sviluppati come nel nostro la produzione è sicuramente sufficiente, è superiore, c'è anche un grosso problema che è quello dello spreco alimentare, quindi quanto cibo viene sprecato, ma diciamo che in termini di bilancio generale se fossimo bravi nel distribuire il cibo, diciamo che l'obiettivo fame zero potrebbe essere risolto, semplicemente con una ridistribuzione delle risorse, ma considerando uno sviluppo e una crescita di popolazione di 1-2 miliardi nei prossimi decenni, ecco che probabilmente l'agricoltura verrà chiesto uno sforzo, chiaramente non possiamo andare a aumentare più di tanto la superficie coltivata, perché già in gran parte la superficie disponibile, la superficie coltivata è già messa a coltura, ciò che possiamo fare ovviamente è produrre di più e meglio in quella stessa superficie, quindi dobbiamo ottimizzare le produzioni, utilizzare meglio le risorse e questo è il grande tema dell'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione consente ovviamente di produrre di più, ma anche utilizzando meno risorse, questo perché è importante, perché l'agricoltura al di là di tutto è, come tutte le attività economiche, ha un suo impatto sull'ambiente che non è da sottovalutare, ci sono stime diverse anche discordanti in realtà su quello che sia il reale impatto dell'agricoltura, in particolare dell'allevamento sull'impatto climatico, però sicuramente non è trascurabile e quindi è necessario che l'agricoltura vada a migliorare, vada a svilupparsi soprattutto in modo particolare in quelle parti del mondo in cui si fa ancora un'agricoltura meno evoluta, meno sviluppata, in cui c'è stato meno sviluppo della tecnica, della tecnologia, come vediamo per esempio nei nostri ambiti, nei nostri campi. E questo è un tema da affrontare a livello globale anche appunto sia in termini di sostenibilità ambientale, perché un'agricoltura più precisa consente di avere un impatto ambientale minore, ma anche in termini sociali ed economici, perché ovviamente se riesco a produrre di più con meno, capiamo chiaramente che anche il beneficio economico è maggiore, quindi se in alcune aree generalmente meno sviluppate si fa un'agricoltura meno evoluta e riuscendo a sviluppare quella che è l'agricoltura, portarla a uno step di tecnica superiore, si riesce anche a migliorare di conseguenza quella che è la condizione della popolazione, insomma degli agricoltori, di quelle donne che come sappiamo sono generalmente la maggior parte, cioè nelle aree meno sviluppate, le persone occupate nel settore agricolo sono generalmente di più rispetto alle aree più sviluppate come per esempio l'Europa, l'America del Nord. Quindi questo può portare già di per sé a un miglioramento sia delle condizioni ambientali che economiche e sociali. Il terzo punto da tenere in considerazione per quanto riguarda l'agricoltura in questo contesto è che di fatto l'agricoltura di tutti i settori economici è l'unico che ha anche la possibilità di agire da assorbimento, diciamo, dell'anidride carbonica, si direbbe da sink, quindi dal lavandino, nel gergo tecnico si parla di sink source, quindi quelli che sono le sorgenti di anidride carbonica e quelle che sono invece gli attrattori, quindi i fissatori di anidride carbonica. L'agricoltura è questo, perché le piante sono gli organismi che per eccellenza riescono a fissare l'anidride carbonica, quindi riescono a togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera e trasformarla in sostanza organica. Quindi ovviamente l'agricoltura ha questa potenzialità se vengono fatte alcune scelte, in particolare quello di, per esempio, che è anche uno degli obiettivi che viene dato anche dalla PAC, da quella che sarà anche la futura PAC, per esempio aumentare le riserve di carbonio nei suoli. Che cos'è questo carbonio nei suoli? Di fatto è la sostanza organica, quindi aumentare quella che è la capacità, la quantità di sostanza organica nei suoli, che questo è un grande problema che abbiamo avuto nel corso anche degli ultimi anni che stiamo vedendo, i suoli molto sfruttati tendono a impoverirsi di sostanza organica, questo dà anche alcuni problemi a livello agronomico di struttura del suolo, di fertilità del suolo, quindi migliorare la percentuale di sostanza organica presente all'interno dei suoli ha innanzitutto il primo obiettivo di questa anidride carbonica, è un'anidride carbonica che viene assorbita dall'atmosfera e fissata nel terreno, quindi viene sottratta anidride carbonica dall'atmosfera è già un primo beneficio in termini proprio di cambiamento climatico e ha anche altri benefici di migliorare quella che è la fertilità dei nostri suoli, quindi questa è una misura che infatti è stata presa in considerazione e verrà presa in considerazione nell'agricoltura. oltre al grande ruolo delle foreste e degli ecosistemi complessi, questi sono infatti quelli che hanno maggiori capacità di assorbimento del carbonio fino a un certo punto, cioè nella fase di sviluppo, finché un ecosistema cresce, quindi gli alberi crescono, ovviamente ogni, diciamo, semplifichiamo la cosa, ogni chilo di albero in più, quindi nella sua crescita è anidride carbonica che viene fissata, ovviamente c'è in mezzo anche, sono anche tanti altri elementi, però quell'albero prima era CO2 presente nell'atmosfera, dopo tramite l'azione fotosintetica viene fissata nella cellulosa, negli altri organi legnosi della pianta e quindi quello diventa sostanza organica. Quindi fino a che un ecosistema è in crescita, in sviluppo, assorbe anidride carbonica a un ritmo molto alto, anche i prati, i boschi nelle loro prime fasi di vita sono dei grandi assorbitori di anidride carbonica, ovviamente quando arriva a stabilità l'ecosistema non c'è più questa crescita, diciamo, di volume in generale, quindi a quel punto lì arriva a essere saturata, diciamo, la sua capacità di assorbimento carbonico. ma è anidride carbonica che è fissa in questi ecosistemi e quindi non è libera nell'atmosfera. Cosa succede appunto quando si deforesta? È che tutta quella massa che era legna, che era foglia, che era ecosistema, era biomassa, pian pianino torna a essere anidride carbonica che si libera nell'atmosfera tramite processi di decomposizione della sostanza organica, quindi c'è appunto di nuovo un bilancio sbilanciato in termini di emissioni di anidride carbonica. Quindi il ruolo dell'agricoltura è fondamentale in questa partita che si sta giocando con il cambiamento climatico e in particolar modo un'agricoltura fatta in un certo modo, quindi un'agricoltura precisa, un'agricoltura sostenibile e un'agricoltura evoluta. A che punto siamo in tutto ciò? Possiamo stimare che un approccio di agricoltura di precisione, questi sono alcuni studi che sono stati fatti nella pianura padana, si è stimato che un approccio di agricoltura di precisione può portare a un risparmio fino al 22% di utilizzo di fertilizzanti e a un beneficio economico di circa 70 euro all'ettaro, poi ovviamente a seconda delle culture, a seconda delle varie tecnologie che vengono adottate anche forse fino a 150 euro in più. Ecco, pensiamo, come dicevo prima, se queste tecnologie fossero applicate anche nelle condizioni, insomma negli stati, nelle aree del mondo in cui l'agricoltura è ancora arretrata, che beneficio potrebbero avere? L'altro concetto che invece dicevamo prima per quanto riguarda l'impatto ambientale, questo è uno studio dell'Università del Michigan, si stima che l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione possa portare anche a un risparmio di circa 890 kg di CO2 per ettaro. Ora, quanto sono questi 890 kg di anidride carbonica per ettaro? Ipotizziamo di metterci al volante di una macchina e guidare fino a che non abbiamo emesso 890 chilometri. Secondo voi quanti chilometri avremmo percorso? Vi faccio un piccolo sondaggio che ora vi comparirà sui vostri schermi, voi potrete scegliere quella che è l'opzione secondo voi corretta. Quindi ipotizziamo di metterci al volante, qui ho preso una macchina, per esempio ho preso una Golf Diesel, ipotizziamo di metterci al volante nella nostra Golf Diesel, iniziare a guidare e quanti chilometri avremo percorso per avere emesso 890 kg di anidride carbonica, che è quello che appunto, vi ripeto, si riuscirebbe a risparmiare in un singolo ettaro di terra applicando tecnologie di agricoltura di precisione. Vi lascio ancora alcuni secondi per rispondere anche a chi non ha risposto, diciamo più o meno a una metà di voi che hanno risposto. Ok, siamo ancora 5 secondi. Ecco anche questi dati, per esempio, questo è un metodo che per esempio vi posso suggerire anche per affrontare queste tematiche in classe, cercare di riportare questi dati, per esempio 890 kg di anidride carbonica, ok ma quanto sono nella pratica? cercare un metro di paragone che sia anche apprezzabile, capibile dagli studenti è una cosa che secondo me è interessante. Ok, chiudiamo il sondaggio. La maggior parte di voi ha, questi sono i risultati, molti di voi, la risposta che ha avuto la maggior scelta, diciamo, è circa 4.000 km, alcuni hanno detto circa 2.000, qualcuno meno di 1.000, solo in pochi hanno detto più di 6.000 km e in realtà è proprio più di 6.000 km perché sono circa 6.300 km quelli che devono essere percorsi da questa macchina in particolare per fare, per emettere 890 kg di anidride carbonica. Quanto sono nella pratica? È come guidare da New York a Los Angeles e poi di nuovo a Seattle circa in 59 ore o in termini, se vogliamo usare dei termini forse più comprensibili per noi in Europa, è guidare da Gibraltar a Caponord passando da San Pietroburgo, perché se si passa dalla Danimarca sono di meno. Quindi per dire, questo sono le emissioni che vengono risparmiate in un singolo ettaro, secondo questo studio, applicando alcune tecnologie di precisione che permettono appunto di questo risparmio in termini di utilizzo di fertilizzanti in questo caso, quindi è stata calcolata anche quella che è l'emissione di anidride carbonica necessaria per produrre il fertilizzante, necessaria per spargerlo nel terreno e via dicendo. Ok, a che punto siamo con la diffusione dell'agricoltura di precisione, con l'agricoltura 4.0, se ne parla in smart farming, si sono diversi termini che si utilizzano, in realtà hanno ciascuno un suo significato ben specifico, ma oggi non approfondiremo questa tematica. Abbiamo fatto pochi mesi fa una ricerca, abbiamo condotto una ricerca insieme all'Università di Bologna sulla nostra community di ImageLine, sugli agricoltori appunto iscritti alla nostra community e abbiamo scoperto che innanzitutto un dato incoraggiante è che oltre il 50% di chi ha partecipato a questa indagine, che erano circa 6-700 agricoltori italiani, avevano già adottato alcune prime tecnologie che possono essere anche solo dei software gestionali per gestire l'attività agricola, oppure centraline meteo, macchinari guidati con il GPS eccetera eccetera, quindi siamo già a un buon punto, ci sono alcune stime, in particolare una stima del Politecnico di Milano che individua intorno al 3-4% la superficie agricola italiana coltivata con metodi di agricoltura di precisione. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare al 10%, quindi migliorare ancora questo dato e poi dopo ovviamente si spera sempre di più, ora non apriamo però questa tematica. Perché ci interessa? Come abbiamo visto sappiamo che l'agricoltura di precisione può migliorare la sostenibilità e ne sono consapevoli anche gli agricoltori, il 65% infatti degli intervistati pensa, è consapevole che una maggiore diffusione di queste tecnologie possa portare una maggiore sostenibilità. Abbiamo inoltre chiesto quanti hanno intenzione di investire in una maggiore acquisizione di strumentazioni e di tecnologie in grado di migliorare questa, in grado di implementare anche lo smart farming nelle proprie attività agricole e più o meno abbiamo ottenuto lo stesso risultato, circa il 65% è già intenzionato ad adottarlo. Quali sono le motivazioni? L'attenzione all'ambiente e anche all'utilizzo efficiente delle risorse è una motivazione che spinge circa il 50%, mentre altre, ci sono altre motivazioni tra cui la sostenibilità economica che è intorno al 54%, ovviamente come abbiamo visto prima che uno lo adotti per una ragione più che per un'altra, di fatto comunque il risultato è lo stesso, si migliora comunque il sistema agricolo e questo ha benefici come abbiamo visto sia in termini ambientali che economici e anche sociali. Andiamo ora a parlare di Green Deal europeo. Prima di avviarci in questa tematica vi chiedo, secondo voi si è parlato molto in questi giorni, anche la COP26 di Glasgow eccetera eccetera, si è parlato molto di sostenibilità, vediamo se sapete quali che sono gli obiettivi che l'Europa si è data in termini di Green Deal, quindi quali sono gli obiettivi che vengono stabiliti dal Green Deal europeo? Una prima opzione che vi ho dato è un meno 55% di emissioni entro il 2030 e una neutralità climatica entro il 2050, oppure meno 30% oltre il 2030 e meno il 75% entro il 2050, terza opzione meno 50% di emissioni entro il 2030 e un aumento del 50% di energie rinnovabili. Vediamo un po' quanto, è giusto per vedere, per sondare un po' il terreno per capire quanto già sapete, quanto vi è noto quello che è il Green Deal europeo. Ok, vi lascio ancora alcuni secondi per rispondere anche a chi sta ancora rispondendo. Ok, terminiamo. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto, la maggior parte di voi ha indicato come obiettivi meno 50% di emissioni entro il 2030 e più 50% di energie rinnovabili, meno le altre opzioni, mi dispiace deludervi, ma gli obiettivi che si è data all'Unione Europea era la prima opzione, una riduzione del 55% delle emissioni rispetto ai livelli del 90 entro il 2030 e diventare un continente a impatto climatico zero entro il 2050. questi sono gli obiettivi del Green Deal europeo. Posso capire che ci possa essere anche una certa confusione diciamo su queste cose perché nel corso degli anni si sono fatti diversi, si sono fissati diversi obiettivi, ricordo ancora gli obiettivi 2020, quindi aumentare il 20%, ridurre del 20% entro il 2020, aumentare del 20% le energie rinnovabili, ci sono stati diversi sviluppi in questi termini, questa invece è la strategia del Green Deal europeo, si è esattamente questi obiettivi qui. È stata approvata poco tempo fa una legge che ha fatto sì che questo piano sia diventato effettivamente effettivo nei paesi dell'Unione Europea, il Green Deal verrà poi applicato con diverse strategie che poi dopo vedremo nello specifico. Cerchiamo poi ora invece però di capire ok che cos'è il Green Deal europeo. Innanzitutto l'obiettivo diciamo filosofico del Green Deal europeo è quello di migliorare il benessere delle persone innanzitutto, quindi rendere l'Europa climaticamente neutra, proteggere l'habitat naturale e questo ovviamente porterà le persone a vivere in un ecosistema, a vivere anche in un sistema economico migliore anche in termini, come abbiamo visto prima, di inclusione sociale. In che modo l'Unione Europea intende raggiungere questo obiettivo? Come abbiamo visto diventare climaticamente neutra entro il 2030, proteggere la vita delle piante, aiutare le imprese a diventare leader nel campo delle tecnologie e dei prodotti puliti e contribuire a una transizione economica giusta e inclusiva, cioè l'obiettivo dell'Unione Europea è anche ovviamente cambiando, avendo una transizione a un tipo di economia, un paradigma anche produttivo diverso, molto probabilmente ci saranno alcuni settori che verranno penalizzati da questo, ecco questi settori non devono essere semplicemente lasciati da parte ma devono essere riciclati, riutilizzati, utilizziamo questo termine, in altri settori che invece avranno necessità di un maggiore sviluppo. Alcuni dati che ci fanno capire che anche l'opinione pubblica, anche i cittadini dell'Unione Europea vogliono andare in questa direzione qua, è che il 93% degli europei considera i cambiamenti climatici un problema grave e il 93% degli europei hanno compiuto almeno un'azione per lottare contro i cambiamenti climatici e il 79% ritiene che l'azione sui cambiamenti climatici creerà innovazione, quindi questa transizione porterà un'innovazione in termini economici, in termini anche di sistema economico, che quindi porterà dei benefici al sistema. Per spiegare brevemente che cos'è il Green Deal vi faccio vedere questo video che è realizzato dall'ISPI che in pochi minuti ci spiega che cos'è il Green Deal europeo. Ciao, io sono Ruben e oggi ti spiego che cos'è il Green Deal europeo. Ormai è riconosciuto universalmente che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per il pianeta e per gli esseri viventi che lo abitano. L'Unione Europea è stato uno dei primi attori a livello internazionale ad elaborare un piano sistematico per cercare di affrontare la sfida in atto, rinnovando così il suo ruolo di guida nella lotta globale contro i cambiamenti climatici. Il Green Deal o Patto Verde è stato presentato dalla Commissione Europea l'11 dicembre 2019 e riassume quella che è la nuova strategia di crescita europea verso una transizione ecologica. Ma che cos'è concretamente? Il Green Deal europeo è un piano d'azione che definisce l'iniziativa strategica di tipo legislativo e non che l'UE si impegna a realizzare nei prossimi decenni in vista della transizione verde. Gli obiettivi principali del Green Deal sono trasformare l'UE in un continente climaticamente neutro entro il 2050, cioè emissioni nette di CO2 pari a zero, delineare una strategia volta a raggiungere il decoupling, cioè il disaccoppiamento della crescita economica dalle emissioni di carbonio. Nelle intenzioni della Commissione Europea il Green Deal trasformerà l'Unione Europea in una società giusta e prospera, con un'economia di mercato moderna e dove le emissioni di gas serra saranno azzerate e la crescita sarà sganciata dall'utilizzo delle risorse naturali. Cosa è stato fatto finora? Tra le prime iniziative di azione nell'ambito del Green Deal troviamo la legge europea sul clima. Con questa proposta la Commissione intende inserire nel diritto dell'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, espresso già nel Green Deal, ovvero intende trasformare un obiettivo politico in uno giuridicamente vincolante. La legge mira ad assicurare che tutti i paesi dell'UE dovranno raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas effetto serra e che tutte le politiche europee contribuiscono a tale obiettivo. Secondo la proposta di legge i progressi saranno verificati ogni cinque anni in linea con il bilancio globale previsto dall'accordo di Parigi. Nell'ambito del Green Deal la Commissione ha lanciato una serie di strategie, tra le quali troviamo la nuova strategia industriale, il piano d'azione per l'economia circolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la strategia from farm to fork. Il Green Deal segue così un approccio listico dettato dalla consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi appena ricordati è necessario intervenire in una serie di settori fortemente interconnessi, tra cui energia, trasporti, clima, ambiente, industria, agricoltura e finanza sostenibile. Dunque tutte le politiche le azioni dell'UE devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Tutte le attuali politiche europee relative all'obiettivo della neutralità climatica saranno oggetto di esame e ove necessario di revisione nell'ambito del Green Deal in linea con le maggiori ambizioni in materia di clima. Come si finanzia il Green Deal? Gli obiettivi della transizione verde e della neutralità climatica posti dal Green Deal europeo richiedono notevoli investimenti sia pubblici che privati. In quest'ottica il cosiddetto piano di investimenti per un'Europa sostenibile punta a fare a levea sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare InvestEU per mobilitare investimenti pubblici e fondi privati che si dovrebbero tradurre in almeno mille miliardi di euro di investimenti. L'UE mira anche a creare un quadro favorevole agli investimenti con l'introduzione di incentivi per sbloccare e riorientare gli investimenti pubblici e privati. Per sostenere le regioni che ancora oggi dipendono fortemente dei combustibili fossili, l'Unione ha introdotto un meccanismo per una transizione giusta che fornirà a loro sostegno finanziario e assistenza tecnica verso un'economia a basse emissioni di CO2. Il meccanismo contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi di euro nel periodo 2021-2027. Il Green Deal si è trovato poi a essere al centro del piano di ripresa economico post-Covid messo a punto dall'Unione e dagli Stati membri. All'interno del programma Next Generation New rientra a recovery fund da 750 miliardi di euro che prevede che almeno 250 miliardi, il 37%, siano destinati alla lotta al cambiamento climatico. Inoltre il 30% del bilancio UE 2021-2027 che risponde a circa 1.000 miliardi sarà destinato a politiche ambientali. Ecco, riprendo la parola. Questo è un video che trovate anche su YouTube, se volete andare a rivederlo. l'ISPI è l'Istituto Superiore per gli Studi di Politica Internazionale. Ha realizzato anche un approfondimento sul Green Deal che è sul loro sito. Nel caso vogliate andare a approfondirlo, vi consiglio appunto di andare a vederlo. Quindi, per raggiungere questi obiettivi, come ci siamo detti, di fatto siamo in un decennio che viene definito anche dalla Commissione Europea il decennio decisivo. Quello entro il 2030 è quello che ci farà anche capire se riusciremo in un qualche modo innanzitutto a raggiungere il primo obiettivo, che è quello della riduzione del 55%, ma anche ci darà una prospettiva nel futuro per capire se siamo sulla strada giusta in termini di sviluppo. E quindi è molto importante non perdere di vista questo primo obiettivo, anche se già, come abbiamo visto anche dalla cronaca, dalla COP26 di Glasgow, molti paesi stanno già spostando avanti gli obiettivi, cosa che è stata fatta per molto tempo negli anni, dal 2020, 2030, 2050. Ecco, è importante non perdere di vista questo obiettivo, quello del 2030, perché già ci darà una prospettiva su quello che riusciremo effettivamente a fare. Che cosa vorrà fare l'Unione Europea? Ovviamente vorrà cercare di allineare tutti i propri settori produttivi in questo Green Deal. Quindi ci sarà una serie di proposte, un pacchetto di proposte per andare in questa direzione con una transizione equa e inclusiva, che quindi, come abbiamo detto prima, non lascia da parte nessun settore, ma possibilmente gli possa andare a dare nuova vita in un meccanismo di sviluppo anche di tecnologie e di tecnologie produttive. Ciò che è importante, che abbiamo anche più o meno già accennato prima, è un'alleanza sostanzialmente con la natura, perché, come abbiamo visto prima, la natura, io prima ho parlato di agricoltura, ma è ovviamente il settore economico che più strettamente è collegato alla natura, è l'alleato fondamentale, perché è quella che è in grado di assorbire quello che è l'eccesso di energia carbonica nella nostra atmosfera e fissarlo nelle ecosistemi, nei suoli, come abbiamo visto prima, nella sostanza attiva presente nei suoli, nelle zone umide, nelle torbiere, in tutti quegli ecosistemi che fanno, che fungono da, appunto, da assorbimento di anidride carbonica. Quindi è fondamentale, in primo luogo, rispettare, tutelare alcuni paesaggi, alcuni ecosistemi per andare in questa direzione qui. Una cosa che è già, abbiamo parlato prima anche delle foreste, dell'aumento delle foreste, in Europa le foreste sono in crescita già da diversi anni, in Italia le foreste sono molto in crescita da diversi decenni, non tanto per un obiettivo, una gestione oculata, per un obiettivo di sviluppo sostenibile, ma semplicemente per l'abbandono dei territori collinari che quindi vengono riconvertiti naturalmente in foreste, cioè la foresta si riprende il suo posto. Era stato fissato un obiettivo di assorbimento di carbonio in stock, diciamo, forestali dall'Unione Europea di circa 225 milioni di tonnellate, questo è stato rivisto a 310 milioni di tonnellate perché quell'obiettivo è già stato effettivamente raggiunto e l'Europa ha anche come obiettivo quello di parlare, di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030, che è un numero molto alto e come vi dicevo prima, ovviamente nella fase di crescita degli alberi questi hanno sicuramente un bilancio del carbonio positivo in termini di assorbimento, è chiaro che dopo nel momento in cui avremo questi alberi a maturità queste foreste sono da mantenere attive e quindi non devono andare poi dopo in una fase di senescenza dell'ecosistema forestale che le porta a essere in realtà una sorgente di energia carbonica perché aumenta quello che è la decomposizione. Ovviamente un'altra tematica è quella dell'energia, della bioenergia sostenibile e in questo senso quindi anche l'eliminazione per quanto possibile e graduale dei combustibili fossili, quindi anche una decarbonizzazione di quello che è il settore energetico è sicuramente una strategia, è una strada da percorrere e anche in termini di sviluppo tecnologico si spera che si possa andare in questa ottica qui, una delle cose che già si può iniziare a fare è quello dell'utilizzo delle biomasse che già vengono utilizzate con tutti i prodotti a base di legno, innanzitutto nel prolungare il loro ciclo di vita, nel riutilizzarli e poi quando sono alla fine del loro percorso smaltirli in maniera da recuperare l'energia che è ancora racchiusa dentro i legami chimici delle molecole legnose per produrre energia e riutilizzare ovviamente quello che rimane come punto di partenza, quindi come fertilizzante per rimettere nel ciclo biologico. Vi farei vedere un altro breve filmato in un intervento di Angelo Frascarelli che è un spiega anche qui in pochi minuti in che modo il Green Deal europeo si interfaccia con l'agricoltura e come vedremo anche con la PAC in particolare. Il Green Deal europeo è una sfida che ha lanciato la nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen che si è insediata il primo dicembre 2019. Un obiettivo molto ambizioso, hanno annunciato che per i prossimi cinque anni c'è l'intenzione di investire ben mille miliardi su un nuovo percorso verde della Unione europea, dei paesi dell'Unione europea, dell'economia dell'Unione europea. Questo obiettivo oltre a essere molto ambizioso coinvolgerà tutta l'economia, tutti i cittadini e tutti i consumatori dell'Unione europea. Che cosa si vuole realizzare? Si vuole realizzare un nuovo percorso verde in cui nel 2050 l'Unione europea sarà un'unione di stati a emissione zero di anidride carbonica e di altri gas a effetto serra. Quindi un obiettivo molto ambizioso che risponde a che cosa? Risponde a una richiesta esplicita della stragrande maggioranza dei cittadini europei. Oltre il 95% richiede che ci sia un contributo importante dell'economia e della politica rispetto al clima, al cambiamento climatico. Ora questo Green Deal europeo coinvolge necessariamente anche l'agricoltura. Che cosa viene richiesto all'agricoltura? Viene richiesto anch'essa di ridurre le emissioni di gas a serra, viene chiesto di ridurre l'uso di agrofarmaci e di fertilizzanti. Questa potrebbe essere una notizia che magari gli agricoltori accolcono con una certa criticità, ma in realtà è una richiesta forte che viene da tutti i cittadini e tutti i consumatori. E questa richiesta non solo sta cambiando le politiche, e vedremo come anche il Green Deal europeo inciderà sulla PAC, ma sta cambiando anche le scelte di consumo. La maggior parte oggi dei consumatori comincia a fare attenzione sui prodotti alimentari che acquista a vedere il livello di impatto ambientale che essi generano. Quindi per un imprenditore c'è un messaggio chiarissimo, che è quello di andare incontro a queste nuove richieste ambientali che vengono sia dalla politica che dal mercato che dal consumatore. Nello stesso tempo ci sono anche buone notizie, perché queste obiettive ambientali presuppongono, come dice anche il documento del Green Deal europeo, che gli agricoltori vengano remunerati per le loro prestazioni ambientali. Queste prestazioni ambientali vedremo nei prossimi mesi il loro contenuto tecnico, ma sicuramente ci sono almeno alcuni elementi che sono sicuramente certi, che sono quello della riduzione dei agrofarmaci, dei fertilizzanti, e un forte sviluppo, propensione verso l'agroecologia e l'agricoltura biologica. Si prevede che le superfici di agricoltura biologica aumenteranno. Questa evoluzione della PAC, questa evoluzione della politica europea nel suo complesso, molto spesso viene criticata dagli operatori agricoli e agroalimentari. Viene criticata perché si dice che questo genererà un maggior costo per la produzione agricola. Questo in parte sarà vero, anche se con le nuove tecnologie si può produrre ambiente anche senza aumentare sensibilmente i costi, ma anche qualora aumentassero i costi c'è un'aspettativa estremamente positiva. L'aspettativa è quella di vedere aumentare il valore dei prodotti. Il documento del Green Deal europeo dice chiaramente che l'Unione Europea si differenzierà rispetto al resto del mondo e chiederà agli altri paesi del mondo che vogliono esportare in Europa, se vogliono esportare in Europa devono adeguarsi alle norme europee. Quindi in un certo senso questo è un grande vantaggio, soprattutto per l'Italia, perché noi avremo la possibilità di respingere le merci europee o perlomeno di poter contrattare con gli altri paesi europei a livello di esportazione aumentando il valore dei nostri prodotti. Quindi sarà molto più interessante per l'agricoltura europea perché si potrà difendere dalla concorrenza mondiale che oggi è basata prevalentemente su prezzi bassi, si potrà difendere perché noi riusciamo a dare più valore aggiunto ai nostri prodotti. Il documento del Green Deal europeo coinvolge non solo l'agricoltura ma tutti i settori dell'economia e in particolare anche i consumatori perché si dice che anche i consumatori devono dare il loro contributo con un consumo sostenibile, un consumo responsabile. Per l'agricoltura ci sarà una nuova tappa del Green Deal europeo che sarà a marzo 2020 quando la Commissione europea emanerà un documento di applicazione del Green Deal europeo proprio specifico per l'agricoltura. Questo documento ha già un titolo e si chiama Dal produttore al consumatore. Questo per dire che con questo nuovo percorso verde dell'Unione europea ci si aspetta una filiera, un valore dei prodotti che è più interessante per gli agricoltori, soprattutto per gli agricoltori che cambiano la loro concezione e la loro visione agricola, il loro metodo di produzione verso un maggiore interesse per il clima e per l'ambiente. Ecco appunto come abbiamo visto, riprendo anche qui il comando, ecco, come abbiamo sentito, c'è questa strategia dal produttore al consumatore che è inserita dentro alla PAC, o meglio diciamo ne è influenza quella che è la PAC, viene chiamata From Far to Fork in inglese e appunto prevede alcune misure che poi dopo verranno applicate da quella che è la nuova programmazione della PAC che è la politica agricola comunitaria nel prossimo periodo di programmazione dal 2021 al 2027, in realtà entrerà in vigore nel 2023 molto probabilmente e questa strategia presuppone alcuni numeri, adesso saltiamo questa parte e questi sono i numeri interessanti, appunto come avete sicuramente sentito il video non è recentissimo, è già stato fatto alcuni mesi fa, ora ci sono già dei numeri, ci sono già delle cose un po' più concrete su cui ragionare, questi sono i numeri della strategia From Far to Fork e in particolare si chiederà una riduzione entro il 2030 del 50% degli agrofarmaci e degli agrofarmaci più pericolosi, una riduzione del 50% di quelle che sono le perdite, quindi l'uso inefficace dei nutrienti e dei fertilizzanti e contemporaneamente una riduzione del 20% dei fertilizzanti anche qui si va ovviamente, quindi viene richiesta implicitamente una maggiore adozione dell'agricoltura di precisione quindi di un'applicazione efficace degli input produttivi una riduzione del 50% delle vendite di sostanze antimicrobiche quindi antibiotici e un obiettivo di un 25% dei terreni agricoli coltivati a bio e agricoltura biologica entro il 2030 questi sono gli obiettivi della strategia From Far to Fork quelli che sono le misure che la PAC metterà in atto per raggiungere questi obiettivi sono in fase di definizione in questo momento appunto vengono definite in particolare da tutti gli stati membri che poi dopo dovranno essere approvati poi dopo dalla Commissione Europea sono già state individuate alcune misure, alcune proposte in particolare ce ne saranno alcune che anche probabilmente attivate anche dall'Unione Europea che sarà quella degli ecoschemi cioè gli agricoltori verranno premiati appunto anche come diceva il professor Frascarelli nel suo video se applicano delle misure diciamo che hanno un beneficio in termini ambientali quindi delle tecniche agronomiche che hanno un beneficio in termini ambientali ma di PAC e di agricoltura ne parleremo in particolar modo la prossima volta ora siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento appunto come vi dicevo di PAC, di agricoltura ma non solo quindi vedremo anche in che modo la PAC influenza alcuni settori correlati all'agricoltura ne parleremo la prossima volta vi ricordo l'appuntamento del 24 novembre sempre alle ore 17 abbiamo ancora posti quindi per chi non si è ancora iscritto c'è la possibilità di farlo di farlo ancora quindi vi ricordo sempre che vi potete iscrivere sia tramite il sito partecipac.eu che attraverso il sito agrinnovationedu.it nel frattempo se ci sono domande se avete domande che volete fare se avete richieste di approfondimento le potete anche inviare a me al mio contatto intanto guardo se ci sono alcune domande allora sì ci sono alcune domande viene chiesto se ci possono fare alcuni esempi di tecnologie di precisione proprio brevemente perché si apre un mondo le tecnologie di agricoltura di precisione quindi di agricoltura di precisione in particolare fanno riferimento come criterio di base quello di utilizzare di intervenire nel modo giusto nel posto giusto e nel momento giusto quindi nel dare l'esatta quantità per esempio di acqua quindi l'irrigazione a goccia per esempio dare l'esatta quantità di acqua che serve a una pianta per svilupparsi oppure applicazioni a ratio variabile si chiamano quindi non spargere i fertilizzanti in maniera indistinta sul campo ma tramite studi tramite rilevazioni da satellite da analisi sul campo capire quali sono le aree i punti dei nostri campi che hanno bisogno di un maggiore apporto e quelli che invece non hanno bisogno quindi si può risparmiare diciamo in quel punto lì l'applicazione per esempio di fertilizzante quindi tramite delle macchine poi dopo che si chiamano la ratio variabile riuscire a dare la giusta quantità in modo che non venga sprecata e tutto ciò è legato fondamentalmente all'utilizzo anche del GPS in campo quindi macchine guidate con il GPS che permette una precisione una maggiore precisione quindi anche una minore sovrapposizione delle lavorazioni che quindi permettono una maggiore efficienza degli utilizzi queste sono alcune delle tecnologie ce ne sono molte altre che si stanno sviluppando anche qui vi consiglio alcune ricerche molto molto semplici proprio su anche su internet su google si trova molte cose oppure se andate sul sito agrinnovationaid.it abbiamo fatto alcuni webinar negli anni precedenti proprio sulle tecnologie di agricoltura 4.0 quindi le potete trovare lì qualcuno chiede riferimenti bibliografici della ricerca immagino fosse la ricerca quella sulla riduzione dell'anidride carbonica vi riprendo subito il riferimento bibliografico è uno studio della Michigan State University di Bruno Basso e John Antle quindi se cercate Bruno Basso Michigan State University dovreste ritrovarla le date dei prossimi appuntamenti sono come vi ricordo appunto 24 novembre un'altra domanda sulla riduzione degli agrofarmaci l'obiettivo è di riduzione del 50% di tutti gli agrofarmaci in particolar modo gli agrofarmaci di sintesi si fa riferimento e anche contestualmente una riduzione degli agrofarmaci pericolosi questa è proprio una classificazione gli agrofarmaci vengono distinti sia in sostanze in agrofarmaci sostanze attive ci sono alcune categorie viene chiesto che vengano ridotti in generale del 50% e anche nello specifico proprio facendo riferimento al solo gruppo delle sostanze attive pericolose anche in quel caso lì venga ridotto del 50% anche considerando solamente quel gruppo lì quindi già c'è un obiettivo specifico anche su quel gruppo di sostanze attive che vengono utilizzate in campo ok ci sono altre direi che non ci sono altre domande c'era una domanda sempre appunto sull'iscrizione trovate i link su entrambi i siti come vi dicevo partecipac.eu e agroinnovationedu.it nel caso vogliate iscrivervi al prossimo webinar e non siate già già iscritti nel caso non vi ricordiate se siete iscritti oppure no innanzitutto potreste riguardare se nella vostra mail vi è arrivata la mail di conferma di iscrizione e quindi già quello è una conferma che siete iscritti altrimenti mi potete contattare questo è l'indirizzo mail che vi lascio appunto a disposizione che sono disponibili nel caso ci siano richieste di approfondimenti anche rispetto alle cose che abbiamo detto oggi Gabriele.mongari di chiacciano imageline.it vi risponderò ovviamente il prima possibile compatibilmente con quelli che sono diciamo anche i tempi del lavoro normale a questo punto direi che non ci rimane altro l'ultima cosa al termine del webinar vi comparirà un breve sondaggio di gradimento quindi fateci sapere se vi è piaciuto se è stato di vostro gradimento questo webinar se lo avete trovato interessante e se ci potete lasciare anche appunto degli indicazioni e dei suggerimenti su come poter migliorare in questo in questa attività detto questo vi saluto vi ringrazio molto della partecipazione numerosa attentissima fino alla fine siamo stati più o meno nei tempi stabiliti quindi l'appuntamento è il 24 novembre successivamente poi invece ci saranno i webinar per gli studenti vi ringrazio ancora e vi auguro una ah sì ho visto una domanda che sta arrivando adesso rilascieremo un attestato sì rilascieremo un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti a chi partecipa a entrambi i webinar ancora grazie e buona serata a presto a presto Grazie a tutti.